Johan Cruyff, in una partita dopo che ha ricevuto un brutto fallo, l'autore del fallo è stato Jorge Valdano ed esso gli ha urlato contro dicendogli «Ma che cosa fai? Hai chiaramente simulato!» A quel punto Cruyff gli chiese quanti anni avesse e Valdano, con aria seccata, gli rispose che aveva 21 anni, quindi Cruyff gli disse che a 21 anni a Johan Cruyff gli si dà del delay.